Urbino all'insegna del jazz, dieci anni per questo evento che anima il centro, un centro che si potrà vivere anche in diverse piazze. La cosa che mi piace di più di questa manifestazione o perlomeno dell'idea che è alla base degli appuntamenti è questo viaggio che in centro storico si può compiere all'insegno della musica. Ci sono davvero dalle 18.15 che inizia il primo spettacolo fino a tardanotte 7-8 ore quasi in interrotte di musica per animare il nostro centro, per fare in modo che le note arrivino praticamente dappertutto. È un'idea veramente importante, è un'idea che piace a me ma soprattutto penso che piacerà alle persone che verranno agli spettacoli. Spettacoli che lo ricordiamo in questa decima edizione sono totalmente a ingresso gratuito tranne lo spettacolo che si svolgerà dentro il cortile d'onore di Palazzo Ducale in cui è ospite un grande urbinate come Raffaele Gualazzi ed è un'iniziativa importante perché celebra un compleanno straordinario, dieci anni di questa manifestazione che sono praticamente un regalo sostenuto dall'amministrazione comunale che l'associazione del jazz di Urbino fa alla città e anche a tutti quelli che vorranno venire da fuori ad assistere ai concerti. Sì, una grande edizione di questo festival, siamo arrivati appunto a Cifra Tonda, decimo anno, ci sono tante persone da ringraziare, prima di tutto insomma i nostri collaboratori, tutto il consiglio direttivo dell'associazione, abbiamo messo su secondo me un cartellone bellissimo, a me preme fare un ringraziamento solenne diciamo all'amministrazione comunale che ha riconfermato un grande aiuto logistico e naturalmente finanziario, quindi grazie a tutti questi amanti anche del jazz e della città di Urbino sono sicuro che verrà fuori un festival bellissimo. Cultura, turismo, territorio, musica, veramente delle giornate importanti all'insegna di quella che è la cultura del jazz, aperta a tutti qua in città di Urbino. Anche questa iniziativa di Urbino Place Jazz è importantissima per il turismo, siamo arrivati alla decima edizione e ho ringraziato, prima mi sono complimentato con il presidente Burani e con il direttore artistico Conte per questo importante traguardo. Altra cosa importantissima è, ho visto la collaborazione con comuni dell'entroterra, questo sarà sicuramente un volano, anche spero sia un volano per altri comuni che possano aderire all'iniziativa, rendere questo festival ancora più importante sul territorio. Da parte mia cercherò di dare impulso internazionale a questo festival ed è per questo che nei prossimi giorni chiederò un incontro con il Burani e con il direttore Conte per cercare di sviluppare già per la prossima edizione questo traguardo. Concerti, light art, DJ set e degustazioni, jam session, tanti i nomi locali e internazionali che animeranno queste giornate di Urbino Place Jazz, edizione numero 10. Questo era l'intento di mettere più concerti e più musica possibile rispetto alle edizioni precedenti dove i concerti non erano nello stesso numero. Quest'anno abbiamo preso, come tutti gli anni, comunque un mix di artisti da giovani affermati, quindi abbiamo il West Generation Quintet, il Vittorio Solimene Quartet, che al loro interno ci sono musicisti che non superano, se lo superano di poco, i 30 anni, ma già musicisti che sono affermatissimi e che già girano il mondo e anche i palcoscenici esteri con grandi nomi. Oltre loro abbiamo, anche quest'anno, la presenza del nostro presidente onorario, Raffaele, all'interno del quartiere d'onore di Palazzo Ducale, sarà ospite del concerto di Luca Filastro. Oltre a lui abbiamo anche dei grandissimi nomi, nomi anche più locali, quindi mi viene in mente Marco Pacassoni, con un featuring di Amic Guerra, un termettista cubano. Marco è la prima volta che lo invitiamo al festival e siamo molto contenti, anche lui è un artista che non è conosciuto solo in Italia, ma anche all'estero. Insieme a lui un altro Urbinate, Lorenzo De Angelis, e quindi ci teniamo sempre anche a promuovere, a proporre i nostri artisti, quelli del nostro territorio. Tanta presenza femminile anche, non mi soffermo troppo sui nomi, ma più che altro vorrei semplicemente dire a chi ascolta in questo momento che il festival si usufruirà del festival proprio in maniera itinerante. Si parte sempre da Piazza delle Erbe, dall'ora 6 e un quarto, ora aperitivo, poi si sale a Piazza Duca Federico nel main stage, quindi con i main concert, e poi si ritorna giù con delle sonorità soul, sonorità afrobeat, quindi sonorità anche ballabili, molto coinvolgenti, in Piazza della Repubblica, nel centro della città.